buon pomeriggio amici di legitalica gaming e bentornati dal vostro dictator lorenz in questa live pomeridiana dedicata questa volta ad un titolo atteso un titolo di spiders che è stato annunciato ben due anni fa due anni di lavoro è stato rilasciato in questi ultimi giorni e su consiglio dell'ottimo stiglitz il dictator ha deciso di provarlo di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di gridfall un mostro di fascino insolito ambientato nel diciottesimo secolo un mondo un po distopico un mondo un po fantasy dove troveremo in questo titolo insomma diversi fattori che vanno dal diciamo da un mix di ambientazioni storiche ad una malattia misteriosa infatti sarà una delle costanti che ci accompagnerà durante questa avventura che è la malicore una malattia che affligge tutta l'europa ma soprattutto serena che è la nostra nazione d'origine in questo mondo fantastico tra commerci sanguinose guerre civili ed azioni diplomatiche scopriremo insieme questo gioco è il mio primo avvio ragazzi è il mio primo avvio quindi di fatto un let's explore il più come dire schietto possibile ecco non mi sono preparato assolutamente nulla ho finito di scaricarlo praticamente dieci minuti fa quindi di fatto ci appresteremo insieme a questa grande avventura un secondo solo ok così eliminiamo anche il problema di di discord e voilà ragazzuoli buon pomeriggio a capitan david e generalissimo marco db al nostro marco rocca ciao pratalone buon pomeriggio anche ad enclave matteo e gerry allora sto utilizzando il controller xbox questo è un gioco che è disponibile sia per pc che per ps4 se non erro andiamo un attimino a capire innanzitutto quali sono i comandi allora gamepad allora menu di gioco aspetta un attimo menu di gioco mappa ok menu di pausa telecamera gancio avversario premi tasti rapidi postura furtiva o mio dio attacco secondario schiva conferma scatta tieni premuto insomma sarà un purpuri di merda ragazzi scopriamo insieme mai vai vai con la nuova partita teniamo normale va ciao vale ho già l'ansia ragazzi è che mi conosce sa quanto sono impacciato con questi giochi con il pad quando si sono un contatto di gioco mappa potete stare un po' più 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 alto? come questo? Sì, sì Sì, sì, ducasse Ma noi veramente ci chiamiamo De Sardè? Perché? Sesso, uomo o donna? Beh, uomo, dai Cazzuto Vediamo un po' che preset ci sono Il mandingo, mio signore C'è il mandingo Vediamo di fare un qualcosa di Molto simile all'europeo andante Così mi sembra un po' Un po' malaticcio Sì, tienilo così, dai Capelli Allora, vediamo un po' i capelli Almeno nel gioco È così molto più simile al Dictator Aspetta, ma io voglio il codino Non c'è Non c'è una capigliatura Tipo questa Anche così, però Ci potrebbe stare Sì, dai Cosa dite, ragazzuoli? Messio Sardina Guardalo qua È lui C'è anche questa voglia Insaziabile Sulla guancia sinistra Così mi piace È molto francese Ma che sguardo ragazzi Colore della pelle Sì, dagli un minimo di colore Colore dei capelli No, io lo terrai così Lo terrai così Gli occhi Van benissimo Questi qua Allora Selezione Fase successiva RB RB qual è? Questo qua Allora Classi di partenza Possiamo scegliere tra Guerriero Tecnico E magia Vediamo un po' le differenze Allora Guerriero Questo profilo è incentrato Sul combattimento in mischia Arma a una mano pesante Lame a una mano Armi da fuoco Attributi consigliati Forza Costituzione Talenti consigliati Artigianato E vigore Poi Tecnico È incentrato Sul controllo Del campo di battaglia Abilità di partenza Trappola elementare Armi da fuoco Lame a una mano Precisione Agilità Scienza Scassinamento Mi piace il tecnico Se no c'è anche Ermago Profilo Incentrato Sull'utilizzo Di incantesimi Offensivi Dalla distanza Anello Di magia Divina Stasi Armi a una mano Pesante Buongiorno Stefano È il Mirko Tardelli Attributi consigliati Potere mentale Volontà Scienza E intuito Allora Conoscendo quelle Che sono i miei Ritardi Palesi La palissiani Nel combattere Corpo a corpo In questo genere Di giochi Io sarei più Propenso Per un tecnico O per un mago Voi che cosa Consigliate Ragazzacci Che cosa Consigliate Ciao Angelo Il tecnico C'ha le armi Da fuoco A me non dispiacciono Le armi da fuoco Trappola Elementale Elementale Cinese Però anche la magia Non lo so Tecnico o mago Stasi quella De der Non lo so Tecnico o mago Cosa facciamo Facciamo Tecnico Dai Allora Scegli un attributo Nel quale investire Aspetta un attimo Precisione Agilità Io direi Precisione Precisione Allora Questo l'abbiamo investito Sì perché Punti rimanenti E zero Quindi possiamo Andare avanti Allora Scegli il talento Nel quale investire Il tuo punto di partenza Per poter progredire Come vuoi Quindi allora Carisma Scienza Scassinamento Intuito Artigianato Vigore Io direi Prendiamoci anche Un po' di vigore Dai Creare questo personaggio Sì Ciao Davide Ciao Davide Siamo bellissimi Ciao la labelle da Twitch Il vostro amore non è trovato niente. Ho cercato il palazzo, da cellars all'attics. Il vostro amore è vicino. Il vostro amore ha fatto un po' di pittare la città l'ultima. Non ti preoccupi, dovrei farlo. Faccio il vostro preparazione senza rinchiare un po' di più. Il vostro amore è pronto il vostro amore. Il vostro amore ha fatto il vostro amore. Deve andare a informare gli ambassadori di Telemi e la Bridge Alliance di lui. Non ti preoccupi, Master. Voi andare a vedere loro in nome. Quindi dobbiamo andare dagli ambasciatori. E gli chiede la porta in faccia, è bellissimo. E gli chiede la porta in faccia, è bellissimo. Siamo al palazzo. Vai a dire a Dio a tua madre. Cosa vuole? Cosa fa questo? Pulisci bene, mi raccomando. Dove dobbiamo andare noi, scusami? Aspetta. Borsa, arma da mischia, arma da mischia... Aspetta, ma la mappa qua come la apro? Oh mio Dio, ma ho un'arma. Dov'è mia madre? Bene, sicuramente non sarà qua. Come da si definirmi Pulcino Reale? Ah, io ho il pisellino qua. Come faccio? Ah, con una schiva, aspetta. Fammi schivare! Oh, ehi! Ehi! Aia! Hai perso la salute. Per aggiornare una pozione ad un tasto rapido usa LB per aprire la pausa tattica. Aspetta, LB qual è? Questo qua. Pausa tattica. Ok. Pozioni, puzione curativa. Allora, A usa. Ma scusami, perché non me la fa prendere? X assegna. Ok. Ok. Ok, mi son curato. Aia! Ma perché non schiva? Ma fammi... Ah! Ah! Ma vabbè, ho capito. Ma io c'ho lo spadino. Armi da fuoco. Allora, LB. Apri la pausa tattica. Armi da fuoco. Ehm... Il livello di corazza fisica è mostrato con scudi sulla barra della salute. Ok, quindi sono quelli in alto a sinistra. Per sfondare una corazza nemica puoi usare un'arma a impatto o alcuni tipi di trappole. Gli attacchi magici oltrepassano la corazza. Il furore è uno stato che ti permette di utilizzare attacchi speciali che infliggono danni bonus e fanno perdere l'equilibrio agli avversari. Una barra segmentata che si riempie quando attacchi un nemico lancia un incantesimo o pari attacchi nemici ti mostrerà il tuo livello di furore. Quando la barra raggiunge il primo livello un effetto visivo apparirà sulle mani del tuo personaggio. Premi LT per attare un... Brusa. 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 Questo è rincoglionito Che figata la pausa tattica Per quelli rincoglioniti come me va benissimo Allora mostrali quanto sei felice che venga anche lui Dai non fa mamone E ora devo trovare mia madre Ma dov'è mia madre? Ho questo Questo qui è un medico Eh ho capito ma dov'è mia madre Dentro qua Madre Oh mio Dio Sì ma non toccarmi La principessa delle sardine Che roba è un pezzo da otto Che schifo È il momento di andare mia madre Cara madre Madre Oh mio Dio E ora dove andiamo? Allora abbiamo detto addio alla madre Adesso abbiamo anche indossato un fantastico cappellino Regalo di mamma Che cosa è? Kurt, è finito. Scusi, Greenblood. Guarda, possiamo vedere i maschi del bosco che ci prenderà. Questo è un'azionale sagittura che siamo arrivati a fare. Ho spero che questa isla possa mantenere le promesse. In order to know that, abbiamo bisogno di trovare Constantin prima. Tu è vero, magari è già in porto, è stato così eager a lasciare. Questo sarà un'azionata che finirà prima della nostra partita. Il comandante vuole recuperare qualche merchandise da nostro servizio. Ma il transporter non vuole servire. Ho fatto tutto ciò che poteva per persuadare. Non c'è nulla. Tutti i parliamenti mi motivano, ma questo è il tuo domenico. Non dirò no a un po' di aiuto. Ovviamente. Onde è il servizio? Nel lower boris, a vicino il porto. Ok, allora. Siamo la nostra lista di visiti. Allora, organizzazione del gruppo. Oddio, Kurt è maestro nel combattimento in mischia. Può indossare armature pesanti. Ok. Eh, occhio, quindi. Aggiungi un compagno. Allora, scusami. Conferma gruppo ed esci. Ok. Mi segui? Andiamo a trovare l'ambasciatore. Che sarà quel disegnino là in alto, penso. Mi stai seguendo? Ecco. Se mi picchiano, devi combattere te, eh. Te lo dico. Io sparo. Kurt Angle dell'Ottocento. Questi chi sono? Questo cosa vuole? Oh. Che cacchio stai facendo tu? Vabbè, stai lì a mendicare. Ma c'è una mappa qua? Oddio, qua bruciano cose. Hai scoperto la piazza dei principi. Allora, dobbiamo entrare in questa porta qua, noi. C'è l'ambasciatore che lo sta preparando. Lord de Sade. Ho detto che tu sei nominato legato. Congratulations. Ma Hamoud. Questa è la responsabilità per qualcuno come te stesso. Ma hai scoperto per la tua famiglia e la congregazione. E questo è sicuramente. Grazie, Signore. Mi sono venuto a informare il nostro partito per la Tia Frida. Mi cazzo, Constantin, è presto a fare l'office di Nuo Serene. E io sono accompagnati. Non ho capito che tu sarei venuto così rapidamente. C'è un pollo. Ho pensato... Beh, allora, è un pollo. Buon viaggio a un buon futuro. Un buon futuro che ci ha avuto. Un buon futuro? È una meravigliosa islanda. Por favor, conoscete a vostra cousin my congratulations. E un piacere piacere che il successo. Tu sembra un po' rispettante. Por favor, mi racconta cosa ti preoccupa. Un personale non scrupulous ha fatto scegliere il problema in serene. Un charlatan che si tratta di un alchemista. Do people actually give credence to these lies? Aless, yes. They snatch up his celebrated panacea? Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Expozzi. And I am pleased to see that they have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Be careful. Allora, chiedi di... Chiediamo dell'Alleanza del Ponte, che non so che cos'è. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The Alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al Saad, became the capital. And a council formed from the different nations, now rules. This union was originally put into place to better resist the appetite for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges and knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. E il rapporto con i mercanti? E il rapporto con i mercanti? Mi piace il suo radiante. Mi piace il suo radiante. Abbiamo scoperto animali che non avevamo mai visto. Alcuni sono più grandi che i luci. Ma non sono gli unici occupanti dell'isola. Un uomo e un uomo che vivono anche qui. Che parlano una lingua incomprensibile. Ma tu avrai scoperto tutto questo per te stesso. Ecco, vorrei ammazzare quelle persone che parlano una lingua incomprensibile. Ciao, chiediamogli l'ultima cosa. Un uomo. Che ti vendono i calzini a un euro gli accendini. Quello ci ha fatto d'inverno. Le conflitti diretti sono in realtà molto rari. Ma un giorno... Siamo guille con i sandali. Allora, andiamo via, vai via. Ho bisogno di andare. Buongiorno, Excellency. Buongiorno, Lord Desardes. Ma che nome di merda che abbiamo. Desardes. Senti, ma posso rubare qualcosa qua dentro? No. Qui c'è un conquistador. Parla con... Passante. Spero di un buon giorno, Excellency. Non posso andare in casa di questo, no? C'è un tasto per saltare, scusa. Aspetta, eh. Oddio, oddio. Ah, questo è il calcio. Vabbè. Usciamo da qua. Allora, ma dove dobbiamo andare? Non abbiamo più munizioni. Le abbiamo consumate tutti. Io ho bisogno di munizioni, comunque. Ah, qui c'è un mercato. Vediamo se posso comprare delle munizioni. Abbiamo dei soldi, mio signore. Siamo ricchi. Caserma delle guardie del corpo. Allora... Scusami, in una caserma ci saranno delle munizioni, mi auguro. Qua ci sono dei fucili. Qui non posso entrare. Qua ci sono dei fucili. Qui. Non posso fare nulla. Ci sono delle pistole. Ok, non possiamo rubare nulla. E siamo usciti di qua. Oddio. Ma che schifo. Ma siamo in un ospedale. Hai scoperto i vecchi magazzini. Scala. Via. Viene anche lui? Ah, sì. Io devo andare... Questo cos'è? Usa tavolo da lavoro. Ti permette di migliorare armi e corazza. Ti permette di migliorare armi e corazza. Scienza ti permette di creare pozioni e trappole. Devi possedere le giuste conoscenze per il tavolo da lavoro. Non abbiamo né artigianato né scienza noi. No. Quelli dobbiamo implementarli con i punti. Ma correte, cittadini di Serena. Correte, venite da me non vi... Mentirete di questo... Ah, è il cialatano. Cittadini, presento a te... Parnassia! La cura di tutto! La peggia, la peggia, la peggia, e anche una peggia. Questa potione, che rischia tutto. E ancora, questo piccolo, è il prodotto di anni di ricerca e di lavoro intensivo. Non è vero. Sento te chiedendo se questa ricerca può curare uno da Malachor. Alas, non ancora. Ma la tua domanda è legittima. Mi sta già sulle palle questo qua. Ma Malachor non è l'unico incontro che ti fa soffermi. Non è vero? Che ti fa soffermi. Non si tratta di questa possibilità. E ti dà una vita di salute e energetica. Perciò, ormai! Un file costa solo un pochino, e molto valore. Perciò, perciò che la vita sia più grande e più grande. Cosa potione, la peggia, la peggia? Molto. 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 Ma Malachor, ovviamente. Molto. 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 Ma Malachor, non ti faccio la possibilità. Non ti faccio la possibilità. Ma pensi di tutti i dolci che questa potione potrebbe aiutare a te. Molto. È un problema. Mi prendo anche due. Ma è un uomo che sape un problema quando si vede una. Sì, non ci sono. Non ci sono abbastanza per tutti. Ma è un uomo che si vede. È un uomo che. È un uomo che. Molto. Il suo ruolo è molto pulito. Mi sento che mi piaceva un pochino. E se abbiamo avuto un pochino con lui? Mi sento che ci sia la stessa stessa. Ah, tu ti sono davanti. In tutto il modo, non ho mai capito. Voglio essere sicuro che non mi sono affinato con una caratteria. Nel questo giorno e tempo non ti faccio. Che cosa faccio per te farvi? Allora, chiedi gli effetti collaterali. È droga, praticamente. I come. I come. Come you see, I'm still in... Excellent condition. Come on now, I saw you take that viol out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, a blindness. Dov'è? Il carro è dietro Il mio salito e la morte ai altri Ehm... è l'atteso È l'atteso, è l'atteso, è l'atteso Luce, trappola elementare. La pozione... Devo prendere una pozione curativa. Ah, ma grazie! Vieni dopo 50... Bastardo, sei utile come due dita in DS! Allora, saccheggia. Cappello da... Prendi tutto. Raccogli. Libro di ricerche alchemiche. Mi sono già spaventato. Cioè, arrivano in due. Questo dovrebbe essere la mia guardia del corpo. Lui cosa fa? Scappa. Geniale. E queste pagine, con una calligrafia piccola e quasi illeggibile, sono elencate i risultati di esperimenti, osservazioni su pazienti e simboli incomprensibili. Tuttavia, la complessità di alcune ricette non lascia spazio a dubbi. L'autore era un vero alchimista e sicuramente aveva una conoscenza molto vasta. Allora, ispeziona. Aspetta, non ho capito qua. RB, RB quale tasto è? Questo qua. Mappe, diario, mappa del mondo, codex. Scusami, ma... Ah, ok, la mappa quindi è qua. Scusami, ma adesso io dovrei bere la pozione. Dalla regia mi dicono che la guardia del corpo non doveva scappare. Ciao, slod. Allora, io... Oddio, c'è un topo. Che schifo. No, aspetta un attimo, perché io devo capire... Dove diavolo è l'inventario, scusa? Pistola. Pistola regolamentare. Ah no, è forse ho capito. Eccolo qua, borsa. Preparato per danni elementari. LT, 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 LT è questo qua. Regalo di mamma. Antidoto del ciarlatano. R visuale. R? Cos'è R? 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 Ma scusami, adesso che c'ho l'antidoto del ciarlatano, vorrei capire cosa devo... cosa dovrei fare. Allora, l'antidoto del ciarlatano. Allora. Forse dobbiamo... forse dobbiamo riportarglielo... Forse dobbiamo riportarglielo al tizio. Ciao, Eagle. Eh, guarda, ci sto provando a giocare adesso. Allora, levati dal cazzo. Furtivo. Andiamo qua. Parla con il cardinale Antonius. Buongiorno, Excellency. Sir de Sade. A cosa dobbiamo apprezzare? I ho come per informare che i miei figli, Constantin, e io sono andati per la Tia Frida. Ah, sì. I ho parlato di che tutti avevano chiesto di più grande stature. Ah, sì. Sì, ci assomiglia, risceglio, eh. Non ho più cappello, perché? F***ed skinny refugees! Sì, 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 sì. No, queste cose non mi interessano Però io non ho bisogno di parlare col cardinale Allora Io devo Innanzitutto Rimettermi l'armatura Ok L'armatura l'ho messa Adesso devo prendere il ciarlatano qua No, però vedi, scusami Antidoto del ciarlatano Scusami La grande partenza Presentati al capitano Vasco Però scusami Io come faccio a verificare che quella cosa non fa male Cioè, non voglio berla Metti caso che ho qualcosa che poi dopo mi uccide o mi fa del male Io pensavo che dovevo portarla a quel tizio là C'è Emanuele E' il quartiere del porto Qua c'è uno che sta imprecando qualcosa Qua c'è una cosa che sta imprecando Qua c'è un'altra cosa Non ti preoccupare, ci troviamo in tempo per l'esercito. Sì, sicuramente, dovresti essere in need of my help in any way? Quale sarà il tuo titolo official on TF4D? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But his highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events. Chart the island and its resources. But also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help master. I need to be leaving. I've quite a few things to do before the rain. I've got a few things to do before the rain. I've got a few things to do before the rain. I've got a few things to do before the rain. Se capisco come si fa. Allora, missioni secondarie. Il charlatano. Andiamo a smascherare il charlatano. Ah, forse dobbiamo tornare dal charlatano e fargliela bere. Ah, può essere, sai? Bastardo! Oh, no! Dio. Ah, pozioni. Oh, no! Oh, no! Ah, pozioni. Move away. Zoccola. Allora. Saccheggia. Poi. Oh, ma picchiano tantissimo sti tizi comunque, eh? Eh, la corazza borchiata. Erano soltanto due? Mi sembravano tre a me. Allora, aspetta. Perché adesso io ho la corazza borchiata. Allora, qui c'ho il ciondolotto. Completo da viaggio. Vecchia corazza borchiata. Punti costituzione insufficienti. Ah, mi richiede la costituzione o uno. Io sono un secco di merda, mio signore. Sono un secco di merda. Posso entrare da qua, no? Quindi vuoi dirmi che non devo entrare qua. Allora, proviamo a uscire da qua, Fritz. Vieni. Questo cosa vuole? Questo è un armaiolo. Vieni. Puoi dimostrare a mi perché non vissi per la ragione che si accadde con il guarde. Ci sono quasi un erro. E ovviamente siamo pronti per la ragione. Siamo pronti per la ragione. In realtà, ho già parlato con il tuo amore. Le chiedono che noi pagano di nuovo, ma che già pagano di pagare. È solo che il prego ha già ascoltato. Non ha nascito affermi. Questo è inatticabile. Se tu accosti a una pagina, devi affermi a questo accord. Sì, se le sbatte tutte, mio signore. Anche le lebrose. Il tuo maestro ha apparello chiesto di chiedere un secondo pagamento per questo mercantile. Sì, è vero. Mi ha detto che il loro attenzione sembrava che sia scendere qualcosa quando passi il ordine. E quindi, deve essere pensato che il guarda avrebbe pagato in fine, cosa che ha chiesto. Mi chiede. E io sono il loro che hanno sentito per cercare l'affare. Sì, cap'è, non è nulla cosa personale. Io solo seguo ordine. ma questa è una nuova questa ancora non ci devo parlare con questo tipo siamo ancora nel prologo abbiamo già non penso che capisci con questo tipo considerate il suo accompagnolo in extorsione, theft. Voi sapete come io che la congregazione non tolera di queste attività illegale. Ma io solo obbio ordini. Questo è un pollo. Beh, come ordini sono la sola lingua che sembra di capire, io vi auguro che rilassare il guardo il mercandise, senza dettagli. Se non è piuttosto che il tuo maestro è preso e che tu finissi i giorni in preso. Che culo ce l'abbiamo fatta Ok però questa non la facciamo adesso Questa non la facciamo adesso Cos'è qua? Noi dobbiamo andare a smascherare il ciarlatano Infatti Leggevo comunque nelle recensioni Che il plus di questo gioco Sono le quest secondarie Voi cosa state facendo? Stai vendendo la troca? Eh? Stai vendendo la troca? Stai vendendo la tua mente Vabbè ho capito si è volatilizzato Dove cazzo è il ciarlatano? Scusami ma Mo dove cazzo è andato il ciarlatano? Parla con l'intendente Ciao Giancarlo Sono tutti malati Apek C'è una malattia schifosa Che si chiama malicore Che è tipo una peste Questa è completamente finita Ah, ma non riesci a chiedere quello di Kurt? Beh, ora, se trovi un'altra soluzione alternativa che sia meno illegale, questo sarebbe bene, il metodo non importa, ma questo cargo deve arrivare all'isola sul prossimo船. Marvelloso. Beh, allora, ho avuto il tuo ritorno con quasi impatienza. Oddio, questa è un'altra, questa ancora! Ma come lo trovo io quel ladro di merda? Io devo trovare il ciarlatano. Dove cazzo sei andato? Non è che si è nascosto qua sotto da qualche parte, no? Dove cacchio è andato? Qui non posso entrare. Area di ricerca trova il ciarlatano. Lettera dell'oste alla cameriera. Luis! Lo strano alchimista dell'Alleanza che ha affiliato una stanza appena di sopra l'ha chiesto espressamente di non pulirla durante la sua permanenza. Quel vecchio rimbambito avrà paura che rompiamo qualcuna delle sue ampolle, quindi lasciano le sue sporcizie e il cliente ha sempre ragione. Quindi è sicuramente... Esatto. E per forza sarà sicuramente in quella camera d'albergo lì. Trova il ciarlatano. Non è questo, 30 metri. È qua in zona il bastardo. Eccola lì, eccola lì. Ciao Wolfileon. Allora, chiedi di ciarlatano. Nuovo obiettivo. Riempi di mazzate. A scafondi finisce. Ma c'è un tizio accasciato sul bancone? È colpa della crisi... Ah no, era un prosciutto. Vabbè, ma questo c'è i prosciutti sul tavolo. Vabbè, ma questo c'è i prosciutti sul tavolo. C'è il negozio? C'è il negozio? C'è il negozio. Non abbiamo visto molti nuovi clienti. Ma in lato, le cose stanno facendo meglio. Le malicor e le bambini di comune. C'è il negozio. L'epidemia ancora raga. Ma la possibilità di trovare una cura sull'islanda ha dato le persone qualcosa di sperimentare. Ora che abbiamo una città lì, molti pescatori vengono qui per spendere i loro valori. Ho bisogno di essere qui. Arrivederci. Ciao. 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 L'Ambassadur è abbastanza insettosto dal tuo commercio. E' il che mi ha sentito. Sahin? L'altro. Perchè il mio carriera non è sufficiente per lui. E' il vero per cui ho avuto lasciare l'Ambassadur. E qui sono. Sto facendo parte del potione. Io, che ero un terrorista. Io, che ero un terremoto dell'Academia di Al Saad. Vediamo un po'. Vedi che allora non è lui il bastardo, è il sandalo? E' il sandalo. E' il sandalo. Vedi che Ho stesso ha avuto cosa che non si può prendere. Nemmeno non si può prendere i loro proprii dischi. Ah, come una setta. Vedi che l'oncchio oscuro il loro magliorno no a bere di per risicare. Perchè un'en�aria di malecchore, non perchè stare a la morte per il malecchore. Non seinete la sua silenza. E' per un entno di spettacare che hai volto dalla grazia di dunque di granito di Sahin. non contengono alcuni ingredienti harmful, ma potremmo così facilmente produrre potenti reale potenti ridurre potenti ridurre potenti, quindi perché non ti? non lo capisci, ho fuori, ma non ho fatto un stop per la mia propria ricerca questa potenza è un'attempo a creare in quelli che trincheranno una resistenza al malacore quindi manipulare le persone per usare come freddo experimentale, è completamente inetico ma lo prenderei a sberle, c'è una faccia da culo, sembra grande puffo, guardalo se questa potenza fosse inoffensiva, allora perché non lo prenderai quando l'ho offerto a te? ho avuto testi a me stesso, per un tanto tempo che ho finito diventato intolerante a te una piccola sip di questa mixtura provoca in me una reazione violenta il mob sarebbe stato furioso in ogni caso, ma una dose normale, lo assurdo, è con un rischio gargamella e droga questo vende bamba liquida ah, io lo aiuterei a lasciare la città io andrò a aiutarti a lasciare la città ma devi promettere che non tornare io lo sguardo molto bene, allora bisogna prima di ritrovarti da quelli che vogliono guardarti se non possiamo trovare un modo di scappare da qui discreetmente dovremmo confrontare la popolazione non ho perduto speranza di poter aiutare qui sarebbe meglio di rimanere qui ok, allora, adesso adesso cosa dobbiamo fare senti, ma posso rubarti qualcosa, no? del formaggio, del pane allora negozia con la folla inferocita ho paura di uscire non ho potente ma 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 Come tutti gli altri! Credo me, I understand why you're angry. Me? It's not money I want! That charlatan tried to poison us! I couldn't give a flying pile of dung for your pretty words! We're gonna hang him high! And you too if you're in a cutlass! How absurd! I'm the one who put an end to his operation! Well in that case help us catch him so he can be punished like he deserves! He's trapped! He'll have to come out someday you'll see! Proponi un accordo. Potrei ordinare di disperdersi. Vediamo la strada diplomatica. I can procure you some excellent potions. As long as you promise to put an end to this. True potions of healing like those you thought you would buy. Why are you some sort of alchemist then? I hope you don't have the same feather as the other. If that's the case we have enough rope to have the both of them! Vabbè ma questa mi sta già sul cazzo eh! I swear that each and every one of you will receive one! Ah! Our trust was already given! We're going nowhere without seeing a merchandise! Such a large number of potions! This story is going to cost you a lot of money! These files could be lying around anywhere! I need to keep my eyes peeled! Oh Dio ma come faccio a dargli le pozioni? Oh mo devo andare a trovare le pozioni! I have a chance to prove that you are not just a false talker! Like the other! If not! We'll have no! Cazzo vuoi impiccare? Allora Andiamo nei vecchi magazzini Allora Dove devo andare io? Vuoi dirmi che devo tornare da lui? Senti dammi un po' delle tue pozioni di merda Mi sa che devo tornare al carro però eh! Vabbè Diggielo cazzo Allora non devo parlare con il ciarlatano Dovevo semplicemente ordinare di disperdersi e se rompevano le palle picchiarli sarebbe stato sicuramente meglio Dov'è adesso? Come faccio io adesso a trovargli la roba quello lì? Senti ma questi cadaveri c'hanno dentro delle monete scusa eh! E' che sono un nobile però Mi servono soldi Vecchi magazzini No vedi? Mi sa che devo dargli le mie pozioni personali Non ci credo Ma che cazzo devo andare qua? Qua siamo in caserma Ma siamo già passati prima Segui R, presentati al Capitano Vasco Come faccio? Is your hat out of style? Does your best film to last years matter? Do you have those potions you promised us? Not quite yet, leave me just a little more time. He's taking us for fools! He's like the other! You've been playing us for idiots Questa troia di nerda Allora, azioni Attacco timoso Rt più x Aspetta, Rt quale cazzo è? Oh, 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 oh No, 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 non spararmi Pozioni Madonna Madonna se picchia questo Mi sta prendendo ammazzate letteralmente La troia No Minchia se sono inferociti Minchia se sono inferociti Ciao Mr. Pelo Sono troppo inferociti questi Sono troppo inferociti Io voglio il mio pistolino Così pum 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 li sparo Perché non funziona il mio pistolino? Finiti i colpi Dove li compri i colpi? Colpi? Scusami, eh Dov'è che ha salvato? No, probabilmente abbiamo già fatto quella questo lì Esatto, c'è la folla inferocita Come here, my beauties Come here, my beauties Ma basta cagna di merda Come here, my beauties Things are about to get decent To my health And death to the others They broke your armor Be careful Oddio Mi sbaglio sempre tasto Forti di merda Saccheggia 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 Abbiamo saccheggiato tutto qua Ci manca questo Oh, pestano di bestia, eh Pestano tantissimo Ah, qui ci sono i talenti No, non abbiamo nulla di talento Tuttavia Abbiamo il cappello di feltro usato Poi Fammi capire Questo fa un po' schifo Questa non possiamo utilizzarla Perché siamo dei secchi di merda Possiamo mettere Possiamo mettere gli stivali da ufficiale Nel borsino qualcosa abbiamo preso È il regalo di mamma No Braccialetto d'argento Preparato per danni elementali Elementali Munizioni Ah, adesso abbiamo le munizioni per la pistols Allora Cos'è qua? Scusami un attimo Noi dobbiamo rientrare Dove diavolo era qua adesso L'ingresso della taverna Negozia con la folla inferocita Ma non devo più negoziare quella folla inferocita Scusami eh Ah, devo rientrare di qua Adesso di qui Andiamo a salvare il sandalo Ciao Mattia Ma sì C'è una ragione In questa che continua a togliere Ok, è sparito Non è che mi hai lasciato qualcosa tu vero no eh Allora, allora, allora Io direi Iniziamo a metterci il cappello Così siamo sexy Ok Adesso Adesso io direi che per oggi potremmo fermarci qui Ma voglio capire se posso salvare qua Salviamo qui ragazzuoli E noi continuiamo Continuiamo domani Magari in serata In serata intorno alle ore 20 Io adesso vi ringrazio Vado a bermi un cafferino E vi auguro un buon pomeriggio Vi ricordo che alle ore 18 Ci sarà l'episodio di Herz of Iron 4 Quello con la Millennium Dawn Un saluto a tutti E noi ci vediamo nella prossima live Ciao Ciao